Non c'è più tempo da perdere e quanto afferma il presidente dei costruttori edili di Salerno Antonio Lombardi che si dichiara pronto a difendere le imprese edili attraverso azioni legali nei confronti degli istituti di credito che non rispondono alle richieste di attuazione degli accordi stipulati in sede nazionale. Per Lombardi è a rischio la sopravvivenza di centinaia di imprese edili sia in provincia di Salerno sia in tutta la regione. Quali sono le azioni da intraprendere? Le azioni sono innanzitutto quelle di far rispettare i protocolli che l'ABI ha siglato a livello nazionale. Noi non è possibile che abbiamo ancora oggi due tali e da Roma in su valgono gli accordi stipulati dall'ABI e nel mezzogiorno d'Italia questi accordi non vengono assolutamente accettati e non si dà corso allo smobilizzo dei crediti delle imprese. Noi abbiamo siglato un accordo inance proprio per il settore edile il 12 maggio dello scorso anno insieme all'ABI che si impegnava per il tramite delle banche aderenti che sono praticamente tutte quelle del circuito aderenti all'ABI di smobilizzare il 70% dei crediti certificati dalla pubblica amministrazione. Noi oggi abbiamo una situazione veramente paradossale, le imprese che falliscono per crediti e non per debiti e abbiamo una crisi di liquidità che sta creando un default del sistema delle costruzioni. Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Prefettura una riunione con l'ABI, adesso aspettiamo le risposte ma devono essere rapide, serie e concrete. Il 30 giugno scorso è scaduto il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche erano tenute a comunicare ai creditori l'importo e la data entro la quale avrebbero dovuto provvedere al pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre del 2012.